La lanterra magica è un ritorno ai primordi del cinema. Questo è il titolo della prima delle tre grandi mostre collaterali alla Fiera Antiquaria di Arezzo. All'interno del percorso espositivo curato dal Museo dei mezzi di comunicazione, il visitatore potrà emergersi nel fantastico mondo di quello che può essere definito come un vero e proprio antenato del cinema. È una monotematica che viene estrapolata dal Museo dei mezzi di comunicazione del Comune di Arezzo e che viene portata a disposizione, proprio in piazza cosiddetta, in mezzo alla Fiera Antiquaria per far capire che anche la lanterna magica e quindi tutto quello che ne consegue in una mostra come questa fa parte di un materiale d'epoca che può essere a piano titolo trovato nei banchi della Fiera Antiquaria. La lanterna magica a piano diritto è il pre-cinema perché sulle immagini che vengono trasmesse per la prima volta in uno schermo dà la prerogativa al cinema che prende questo sistema di proiezione e dà anche un senso al movimento dell'immagine. Perché ci sono i passatempo, il giorno-notte, il passaggio astronomico per esempio della luna che arriva a luna piena e poi va e sparisce. Quindi ci sono questi sistemi che l'uomo si meravigliava, tant'è vero che molto spesso quando facevano gli spettacoli di lanterna magica la gente si alzava e andava dietro lo schermo oppure a toccare il muro per vedere chi erano veramente questi personaggi. Grazie. Grazie.